E' improvvisato perché non avevamo in programma nulla oggi, quindi non avevo deciso di vloggare e invece adesso andiamo a Verona, cioè adesso, oggi pomeriggio andremo a Verona e quindi ho deciso di portarvi con noi, sono meno 5, meno 10, come avete letto, a mezzogiorno queste sono le mie unghiette, molto natalizie e niente, sto preparando la papadale, ma non sta facendo la carne ai ferri vi faccio vedere una cosa meravigliosa, la mia soddisfazione la mia bambina che sta fiorendo, non si vede niente, va bene comunque la mia orchidea è bellissima e lei, e là c'è una marmotta che sta gridando c'è una marmotta che sta gridando ciao, ciao è quasi pronta la papa, bavoso sei un bavoso papa papa, adesso la papa è quasi pronta, amore sei, sei, sei sei una bava, sei papa sei una bava papa, papa pavonea che ti non magino allora Bernardi, questa carne, che cos'è, che cos'è tagliatina, tagliatina costicina, babuino mamma me cos'è, tutta questa roba chi è che ha mangiato il dolcetto Ale Ehi che qualcuno si sia addormentato bene, sono pronta adesso devo correre da mia mamma a portargli l'atachipirine perché mi ha appena chiamato che ha la febbre e non ha l'atachipirine a casa e poi forse finalmente partiamo per quel di Verona vado stappo vedi, ok? mi sento qui la fisica e la fisica monica e la tazza di chi sei bello siamo nella piazza del Colosseo fanno bene non è la fine ricordata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti